sport è mezzo cosa che serve per altra cosa bicchiere serve per bere acqua barca serve per attraversare i uve tu non fai campionati di bicchiere di acqua tua barca deve solo attraversare il fiume sport è come barca il fiume è tuo carattere l'atleta prepara suo corpo con esercizio atleta ripete cento volte esercizio fino a quando atleta diventa esercizio esercizio si fa da solo atleta sente fatica atleta usa fatica atleta perde con fatica fino a quando lui diventa fatica e fatica sparisse fatica sparita allora ancora fatica ciao 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 ciao